Sto lavorando per garantire ai disabili della nostra città la possibilità di riavere uno sfogo terapeutico, una nuova ordinanza quindi che consentirà loro di fruire in totale sicurezza e a scopo terapeutico di tre luoghi comunali a Enna Alte, Enna Bassa e Percusa. Così il sindaco di Enna Maurizio Di Pietro dopo il dibattito televisivo della trasmissione sul Rai 3 fuori Tg di cui è stato ospite. Ho preso questa decisione, prosegue Di Pietro, anche alla luce dell'interpretazione data dal professor Giuseppe Recinto, consigliere del presidente Conte sui temi della disabilità, del tutto coincidente con quella che io stesso avevo dato alla mia precedente ordinanza, che lo voglio sottolineare ancora una volta non ha mai avuto come oggetto la riapertura della villa comunale Torre di Federico ma esclusivamente il suo utilizzo come luogo nel quale consentire un'attività terapeutica ai soggetti che ne avessero bisogno dal punto di vista medico-scientifico. Grazie a questo autorevole apporto ritengo che ci siano tutte le condizioni per emettere una nuova ordinanza accogliendo così gli appelli che da più parti sono giunti. Ho già provveduto a contattare il soggetto attuatore della regione siciliana preannunciandogli la mia intenzione di riformulare una nuova ordinanza ampliata in applicazione del principio della prossimità funzionale, cioè individuando luoghi con una distanza minima da percorrere per essere raggiunti e sufficiente a garantire la possibilità di una passeggiata a soggetti con disabilità accompagnati in un luogo adeguato.